Era una notte di pioggia a catinelle, venivo fuori senza le bretelle, a un certo punto vidi un cimitero, com'era buio o com'era... Ma dove sono finiti tutti quanti? Qui non siamo a Villa Decadente, speriamo che sia di partita si sia ricordata di spedire gli inviti, perché io vi sto aspettando qui al Teatro Verdi di Montecatini per raccontarvi le mie avventure, mi raccomando vi aspetto numerosissimi, ciao bambini!